Se dobbiamo scegliere un'immagine di questa partita vorrei indicare a lei quando dopo il gol di Erpen hai detto ragazzi calma calma mancano 10 minuti calma e questo Bassano poi sa reagire lei lo sapeva e alla fine è finita 2-1 per il Bassano. Mi fa piacere che hai notato questa particolarità perché lo sai bene come sono io in tutte le situazioni invece lì no perché capivo che c'eravamo nel secondo tempo è stato un secondo tempo fantastico con delle trame giuste senza andare a cercarla per forza la giocata e quindi c'eravamo mancava ancora tanto e sapevo che avremmo creato sicuramente qualche altre altre situazioni tanto vero che subito dopo il gol loro ma neanche dopo un minuto abbiamo avuto un'occasione clamorosa e poi eravamo sempre là e credo che poi alla fine è stato un giusto premio a questi ragazzi dove dove l'hanno meritata con pazienza in certi momenti ma al secondo tempo con attraverso delle giocate fantastiche che sono assolutamente giocate di qualità singole e citare uno a posto dell'altro faccio fatica perché comunque hanno fatto tutti una grande partita anche perché di fronte c'era un avversario coriaceo di quelli che ti fanno ti insabbiano gli ingranaggi che ti fanno fatica a far giocare il tuo gioco e quindi appunto questa è una cosa mica facile da affrontare no no lo sapevamo è infatti il primo tempo è stato un primo tempo brutto un primo tempo dove era difficile giocare sapevamo di trovare pochi spazi e quindi dovevamo adeguarci un attimino nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia totalmente forse un po sono calati anche loro fisicamente ma sapevamo che che in questo momento loro forse potevano patire qualcosina perché hanno fatto tante partite in così poco tempo però noi siamo stati bravi a sfruttarla al meglio questa loro tra virgolette mancanza di equilibrio e lì negli spazi i giocatori come come non l'è io colano ma anche lo stesso pietri viasi che poi è uscito hanno fatto delle bellissime giocate e anche i terzini e soprattutto anche toninelli sono veramente contento sta facendo veramente delle prestazioni super una dopo l'altra e niente ci portiamo a casa questa bella vittoria questo primato solitario e credo per il piacere veramente di questa gente oggi erano in tanti ma oltretutto tanti calorosi rumorosi ed è bello ed è bello vedere la propria i propri tifosi la propria città che si unisce a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante però come tutte le cose cerchiamo di di lavorare giorno dopo giorno migliorarci e questo è il nostro obiettivo cercare di divertirci ci divertiamo e di fare anche divertire anche perché avete superato lo diciamo anche prima due test probanti contro due squadre forti ma completamente diverse quindi avete affrontato due step molto significativi in questa stagione assolutamente sì era un'altra situazione da da capire come riuscivamo a noi a gestirla cremonese è una squadra che attacca quindi sapevamo che troviamo degli spazi così è stato oggi invece l'opposto primo tempo un po un po di difficoltà ma ci stava lo sapevamo invece secondo tempo siamo riusciti a ad aprire loro maglie cercando l'ampiezza con jocolano con cattaneo dove dovevamo fare quello l'abbiamo fatto molto bene e quindi dicevi bene tu un altro test superato bene e questa mi fa piacere che la lettura dei ragazzi nella partita è stata è stata buona ottima però adesso già da domani lavoriamo e penseremo a a sabato un altro big match contro una squadra importante contro una squadra che ahimè arriva da da una sconfitta quindi saranno saranno di nuovo pronti alla battaglia soprattutto in casa dove hanno ottenuto i migliori risultati chiaramente parlando del novara la grande favorita di questo campionato anche sia un po tardata però appunto sappiamo questo campionato è pazzo oggi la cremonese ha perso contro il pordenone sì sì sto parlando del novara comunque rimane una squadra con dei giocatori di valore assoluto giocatori importanti e quindi insomma certe sconfitte ci stanno ancora è presto per valutare un po tutto ma è una squadra a mio avviso è destinata a salire gradino dopo gradino ma speriamo che lo fanno dopo sabato grazie mister prega ciao grazie mille grazie mille grazie mille